Andrà tutto bene puntata numero 477 sono le 15 e 38 del 26 marzo 2021 dagli studi di Aracne TV Chiarabuccini in collegamento con noi Antonella Betti ciao Antonella grazie di essere con noi. Buonasera Chiara insomma a tutti gli spettatori grazie del graditissimo invito. Oggi Antonella Betti è la nostra amica giornalista assistente sociale una persona molto attiva nel campo del sociale con la sua con il suo sodalizio oggi è una giornata particolare per Antonella Betti ci dirà perché la puntata si intitola nel ricordo di Emma e Andrea Antonella attraverso un percorso che stiamo facendo con delle puntate qui su Aracne TV ci sta raccontando la sua storia che poi è una storia che coinvolge tante altre persone. Antonella che giornata è oggi per te che anniversario è? Sono passate 13 anni dalla tentata strage di Laino Borgo in Calabria a chilometro 154 e 80 dove Emma e Andrea i bambini che io portavo in grembo sono morti dopo un solo giorno in incubatrice. Io mi sono sentita oggi di volerli ricordare per spingere tutte le persone a non dimenticare ciò che ha scaturito tutto il mio calvario quello del mio ex compagno agito dal fratellastro del mio ex compagno papà di queste povere anime innocenti e per lasciare queste due anime innocenti andare in pace come sono in pace io oggi quindi a 13 anni di distanza ho chiudo questo cerchio contenta che ho ritorzioni perché vuol dire che le persone coinvolte gentaglia, avida, spietata che ha seguito i piani folli di questo pazzoide diciamo riescano a far pace con la loro di coscienza perché se io sono in pace penso che molte altre persone d'ora in avanti smetteranno di dormire sonni tranquilli questo perché io oggi ho una maggiore consapevolezza come vedi sono molto calma Donella infatti perché questo primo anniversario per te è così diverso dagli altri? Hai trovato possiamo dire nonostante il dolore un tuo equilibrio? Esattamente, beh innanzitutto perché la senatrice Binetti mi ha ridato luce, dignità e mi ha dato la speranza di poter cambiare di nuovo la mia vita la procura che ha diciamo svolto eccellentemente delle indagini è un lavoro esemplare tutto questo misurandomi l'anno scorso prima che il mio ex compagno se ne andasse con tutti diciamo i punti farraginosi e non diciamo delucidati tra me e lui in sospeso hanno generato oggi questa calma, questa maggiore consapevolezza, questa forza nella verità oggettiva e tanta pace nel cuore perché comunque in questi anni li ho totemizzati i miei figli perché comunque sia brutto che io lottavo tra le vite della morte e non li ho potuti neanche stringere ed è il mio modo per lasciarli andare a riposare in pace forte del fatto che non li ho mai dimenticati anche che non li ho potuti né vedere né stringere che non li dimenticherò mai che sono diciamo la mia forza, la mia pietra miliare il motivo per cui io trovo la forza di rigenerarmi da ogni ritorzione che queste bestie mi fanno con diciamo la promessa solenne di stare tranquilli che il loro zio folle pagherà fino alla fine dei suoi giorni per mano della legge io non mi fermo, non intendo fermarmi bensì cerco di andare avanti siamo agli sgoccioli di questo segreto di Puccinella di questo velo di omertà e di bugie che finalmente è stato scoperchiato perché ricordiamolo il fratellasto del mio ex compagno ha preso in giro trasversalmente tutti e invito tutti quanti che magari se lo trovano davanti perché è latitante è riuscito a farla franca per la quarta volta che ci ho mandato dietro le sbarre spero veramente che si mettano una mano sulla coscienza e non aiutino un figlio illegittimo un fratellastro che ha voluto 13 anni fa la morte del suo vero fratello che ha dato a me la colpa del fatto di essere diseredato e invece è stato diseredato semplicemente perché non è il figlio del mio ex compagno quindi è una cosa che non aveva nulla a che fare è una vera e propria faida familiare ti sei trovata all'interno di questa situazione che veramente ti ha lacerato a tanti anni della tua vita sì anche perché io la memoria l'avevo persa quindi chiaramente ho acquisito la mia pace interiore e ho capito che era una faida tra Caetano e Tommaso Caetano figlio legittimo Tommaso figlio illegittimo ma tutto questo ha comportato che hai preso in giro una stalker, tutte le persone perché lui si è spacciato maniacalmente per il mio ex compagno ma in realtà evidentemente sai che c'è andava fatto questa inversione di rotta perché io a un certo punto l'anno scorso è stata sperata da questo accanimento perché Tommaso ha agito contro di me un accanimento persistente in questi 13 anni stiamo parlando di 13 lunghissimi e dannati anni che io non gli perdonerò mai siccome sono un volto pubblico mi riconoscono agli studi medici mi riconoscono ovunque perché io questa missione l'ho interiorizzata e continuo a portarla a termine in che senso? nel senso che ha fatto del male gratuito ha fatto del male gratuito alla mia stalker ha fatto del male gratuito a tutte le persone alle quali ha millantato soldi benessere pur di protezione ampliamento di cose quando in realtà è una nullità totale cioè Tommaso è una nullità totale che ti dico una cosa io vedo questa giornata come una giornata di luce di speranza e di cambiamento ed è la prima volta che vedo un cambiamento legato alla forza al coraggio come anche alla speranza che metto ogni giorno per non colorare all'idiozia e ai colpi bassi che Tommaso ancora mi infligge pensando che io sia cretina lo dico pubblicamente perché questo è un segreto di pulcinella che fondamentalmente deve finire e sarà per finire perché siamo arrivati agli sguocci sai perché? perché io non sono come il mio ex compagno io sono un pugno di ferro continuo capisci? è difficile che io cambio idea quando sono certa che è la verità delle oggettività capisci? cioè io divento un caterpillar cioè quando io posso sbagliare chiedo scusa faccio un passo indietro ma se io oggettivamente scopro come in questo caso che da innocente mi hai fatto pagare a me le tue follie no beh guarda finalmente rompetemi un'altra valigia hackeratemi l'identità digitale infatti tutte le ritorzioni capisci? di colpi bassi però intanto dimostrate a me e al pubblico a casa che Antonella Betti o Antonina Concetta Vittoria o Chicca come vi volete chiamare perché il pubblico mi chiama a seconda di come mi ha identificato è sulla strada giusta Antonella questa tua baccata non sono tutte persone sporche anche dal mancuso di limbati perché Tommaso Mancuso non sei chi dici di essere quindi questa tua battaglia tu la stai combattendo anche per le altre vittime? assolutamente sì quando mi è stato chiesto di scrivere la vita strappata in Italia anni 70 ad oggi allora Elvira Falbo mi disse di avere il coraggio di scrivere questa grande tragedia perché non solo abbracciava la mia triste storia ma avrebbe trasversalmente aiutato milioni e milioni di persone il che è vero perché Vite Strappate è arrivato anche all'estero e sta letteralmente spaccando tutta l'omertà ecco perché oggi mi sono sentita di guardare in camera guardare il pubblico a casa e forse anche Tommaso perché penso che comunque sia staticamente mi guarda io sono sicura che oggi non ti crede più nessuno quindi siamo arrivati a 13 anni di distanza dove abbiamo subito la pace io sono in pace e so che i miei figli sono in pace ma per fare questo ho dovuto consigliare al mio ex compagno di staccare questo cordone umbilicale con queste pseudo persone che non si possono chiamare famiglia e farlo consegnare allo stato perché era la sola cosa da fare rompere un legame maniacale perverso ossessivo compulsivo con gentaglia che non si può chiamare famiglia quindi è questo che voglio comunicare semplicemente io non mollo quindi chiaramente sono sulla strada giusta voglio andare avanti voglio tagliare il traguardo perché fondamentalmente ho fatto pace con il passato cosa che dovrebbe fare Tommaso la mia stalker e tutte queste brave persone che si sono lasciate abbindolare da una povera nullità estrema però quello che mi preme dire è che l'hai fatta pagare a due anime innocenti di sei mesi un giorno e tante altre persone quando invece dovevi semplicemente analizzare dentro te stesso il perché cioè non è dipeso da me e soprattutto oggi per me è un altro giorno dove so che i miei figli li posso pensare come un volo dei gabbiani su un cielo una farfalla che mi si posa come questa mattina mi si è potata qui sono in pace Chiara ecco perché voglio dire di stare tranquilli che Antonina c'è e che chi ha tradito la mia fiducia deve vergognarsi non mi devo vergognare io si deve vergognare perché ha spalleggiato un impostore un folle assassino Antonella è bello è molto bella questa immagine che tu ci consegni di questa giornata di oggi a 13 anni da questa data da questa situazione che da questa tentata strage che ti ha veramente sconvolto la vita un percorso di dolore e di battaglia che però ti ha fatto ritrovare la pace con te stessa e con questi due angeli Emma ed Andrea perché ce li descrivi adesso proprio come come due angeli che tu non hai potuto stringere ma che ti stanno proteggendo veramente da da 13 anni sono lì e ti proteggono quindi è veramente una bella immagine che ci consegni di questa giornata Antonella e io ti ringrazio di aver condiviso con noi di essere stata protagonista di Andrà Tutto Bene ti chiedo proprio in un telegramma di dare un segnale di speranza a chi ci ascolta e a chi sta combattendo le sue battaglie ognuno ha una sua battaglia da portare avanti Innanzitutto spero che Emma e Andrea possano volare finalmente liberi e sereni verso la luce perché la loro mamma e forse il loro papà il mio ex compagno comunque li sia siamo in pace di stare tranquilli loro come tutte le vittime dei sequestri di Stato per mano di stampo mafioso che io non mi fermo e vado avanti ai miei figli dico che ci rivedremo un giorno e ci daremo quell'abbraccio negato da questo vostro sio fratello illegittimo e folle che ha messo tutto in questo cinema e lo faccio perché credo che sia doveroso per tutte le persone che mi hanno dato la forza di arrivare fino a qua e al contempo chiudo ogni genere di porta a tutte quelle persone che mi hanno infangato che hanno fatto sì che passasse ancora altro tempo pur di spalleggiare un povero folle che è solo e solo deve restare grazie mille a tutti grazie a te Antonelli alla prossima puntata di Andrà Tutto Bene Grazie a tutti